buonasera buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti a questo consiglio comunale del 31 di maggio 2022 prego il segretario di fare l'appello ok allora buonasera morelli tani donati doveri minichilli ferrucci non c'è masoni senti bernini ristori venicucci montagnani bugiani ha comunicato la sua assenza così come la la sforza ranfagni picchi e picchi mi diceva per ragioni di salute non è presente guerra grazie segretario allora iniziamo con qualche comunicazione di nuovo grazie buonasera a tutti a chi è qui in presenza chi a casa e vede questa assemblea questa seduta del consiglio comunale attraverso streaming invito come sempre a tenersi aggiornati sulle comunicazioni anche attraverso il sito web e canali social del comune allora cominciamo con una notizia di una importante iniziativa che finalmente è tornata a potersi svolgere sabato 14 domenica 15 maggio una delegazione partita da ponte d'era ha partecipato a pellegrinaggio al campo di concentramento di moto mautausen organizzato dall'aned associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti quest'anno non è ancora stato possibile riprendere a organizzare il pellegrinaggio anche con gli studenti pertanto erano presenti alcuni rappresentanti istituzionali il comunica cinaia è stata la consigliera michela bernini a farsi testimone di questa esperienza toccante indimenticabile per tutti coloro che l'hanno fatta in cui michela ha potuto vedere attraverso i propri occhi la crudetta e le atrocità che la storia ci ha poi consegnato la memoria porta giustizia e consapevolezza elementi su cui la nostra democrazia deve continuare a fondarsi per questo motivo tengo a citare anche un altro momento in cui la memoria collettiva ha trovato uno spazio di condivisione ricordo la mattina di lunedì 23 maggio a 30 anni esatti dalla strage che è costata la vita al magistrato giovanni falcone alla moglie e magistrato francesca morvillo e agli agenti della scorta vito schifani rocco di cillo e antonio montinaro abbiamo deposto una corona al monumento in memoria delle vittime delle stragi di capaci e di via d'amelio in piazza borsellino a fornacette numerosi gli intervenuti e le personalità presenti alla commemorazione la signora prefetto maria luisa d'alessandro il questore gatano buonaccorsi gli amministratori dei comuni dell'unione valdera assessori e consiglieri del comune calcinaia i rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi di calcinaia e alcuni giovani delle scuole del territorio che durante l'anno scolastico partecipano a percorsi di sensibilizzazione alla lotta contro la mafia esprimo nuovamente la mia gratitudine all'associazione nazionale polizia di stato della sezione di ponte d'era in particolare al suo presidente calogero pace per aver organizzato questa toccante manifestazione il sacrificio di chi ha perso la vita in quella strage non è stato inutile perché ha lanciato un importante messaggio per le nuove generazioni e naturalmente per tutte noi mai scegliere l'indifferenza mai rendersi complici di quella cultura mafiosa da cui derivano atteggiamenti omertosi e estremamente pericolosi tutti insieme abbiamo voluto restituire dignità a una pagina così buia per la nostra democrazia una pagina che deve essere ricordata per tenere viva l'eredità di valori che ci sono stati trasmessi da chi ha dato la vita per combattere la mafia adesso un aggiornamento in merito ai contagi da covid-19 fortunatamente rispetto al passato consiglio comunale si contano molti meno positivi infatti la data di ieri sono 36 i casi di isolamento per positività al virus pertanto una situazione in netto miglioramento che però deve comunque tenerci sempre vigili penso che se la situazione sarà questa potremmo anche pensare di fare il prossimo consiglio comunale nella sala consigliare l'allentarsi poi della situazione emergenziale e delle relative restrizioni sta permettendo la ripresa di molte delle manifestazioni folcloristiche di cui il covid ci ha privati per circa due anni sono tornati a svolgersi infatti anche festeggiamenti del maggio calcinaiolo con tre fine settimana all'insegna della tradizione e dell'intrattenimento è un programma ricco di appuntamenti tra nozze concerti tombole e la consueta regata dei rioni giunta alla 185esima edizione è anticipata nel giorno di sabato dalla sfilata storica in costume qui abbiamo anche uno dei vincitori della regata ringrazio sinceramente la deputazione santa baldesca che ha organizzato gli eventi rioni la nave montecchio oltrarno oltre tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione della sagra della nozza e delle altre manifestazioni del maggio calcinaiolo mettendo a disposizione il proprio tempo e la propria competenza per restituire a tutta la nostra comunità dopo i momenti di solitudine e preoccupazione che abbiamo attraversato occasioni di sbago socialità e condivisione è doveroso che le istituzioni la cittadinanza tutta riconoscano quanto è prezioso l'impegno di queste persone grazie a cui il nostro paese mantiene tradizioni storiche religiose e folcloristiche che costituiscono un forte collante per il nostro tessuto sociale durante l'ultimo se fine settimana sono tornati a far visita al comune calcinai anche gemelli delle cittadine di amigli nov e villanova del camino che hanno aderito al gemellaggio in modo davvero numeroso e sentito il sabato mattinale abbiamo accolti qui in sala orzini dando il nostro benvenuto e scambiandoci i consueti doni è stata l'occasione anche per festeggiare tre importanti anniversari nel 2022 infatti ricorrono 30 anni di gemellaggio con villanova del camì e 25 con nove c'è stato inoltre spazio per celebrare i dieci anni della firma del patto gemellaggio con amigli che non è stato possibile onorare prima poiché concomitante col periodo di emergenza covid la mattina visto anche l'inaugurazione di alcuni spazi che abbiamo voluto dedicare all'amicizia che ci lega ai gemelli delle cittadine francesi e catalana il murale gemelli in comune la mostra fotografica colori d'europa lo scambio di libri in francese spagnolo e italiano e la sezione dedicata alle opere in francese spagnolo presso la nostra biblioteca nel pomeriggio oltre alla visita della mostra gemelli d'europa il museo della ceramica coca pani si è svolta la festa dell'accoglienza a cura del comitato gemellaggio con esibizioni sul tema della pace della fratellanza valori che sono presupposto stesso del gemellaggio e che soprattutto in questo momento storico con tutto ciò che accade in europa è bene tenere nella massima considerazione successivamente i gemelli hanno potuto prendere parte alla sfilata storica vederla e la domenica alla 185esima regata dopo aver fatto visita ai luoghi salienti del nostro territorio e condiviso con le famiglie ospitanti dei momenti di convivialità e reciproca conoscenza ringrazio ancora una volta coloro che si sono adoperati affinché tutto procedesse al meglio in particolar modo la vicepresidente del comitato di gemellaggio e il vice sindaco e assessore al gemellaggio oltre che le famiglie che si sono rese disponibili per raccogliere i nostri ospiti dimostrando così interesse per una iniziativa che connota il nostro comune e naturalmente all'attenzione lo mette al tema dell'attenzione della fratellanza è infatti dall'incontro e dallo scambio che il nostro territorio ha saputo crescere e svilupparsi permettendo di scoprire affinità e coltivare quella sincera amicizia che ha portato all'avvio delle esperienze di gemellaggio e alla loro continuazione. Le nostre comunità sono inserite nel contesto europeo in particolare in questo momento si avverte il bisogno di contribuire alla costruzione di un profondo senso di appartenenza all'Europa di cui dobbiamo davvero essere in grado di sentirci cittadini. Attraverso il gemellaggio ribadiamo i principi fondamentali della libertà, della democrazia, dell'autonomia e dell'identità. Sono questi i valori che abbiamo voluto onorare anche lo scorso 9 maggio illuminando di blu il municipio in occasione della festa dell'Europa con cui si ricorda la proposta dell'allora ministro Schumann che espose l'idea di una nuova forma di collaborazione politica che avrebbe reso impensabile la guerra fra le nazioni aderenti e portato alla nascita dell'Unione Europea. Quelle parole ancora oggi fanno riflettere sull'importanza dell'Unione Europea nella vita di tutti noi, il rimantimento della pace e la salvaguardia della democrazia. L'Europa in cui crediamo è un luogo solidale e accogliente, proprio questi valori sono tangibili nel gesto dei cittadini che hanno contribuito alla raccolta fondi istituita anche in occasione del pranzo chiamato Per l'Ucraina per la pace, organizzato dalla Casa del Popolo di Fornacette in collaborazione con molte associazioni del Comune e finalizzato a raccogliere fondi destinati esclusivamente ai bisogni delle persone che, costrette a fuggire dall'Ucraina a causa della guerra, sono state accolte sul nostro territorio. Mi sono poi personalmente recato a far visita a quegli stessi cittadini che successivamente sono stati ospitati dalla Croce Rossa italiana presso una propria struttura a Tirreno. In quell'occasione ho portato loro il contributo raccolto di 2.000 euro, naturalmente frutto della generosità dei cittadini del nostro Comune. È assolutamente importante continuare a sostenere chi attualmente non ha la possibilità di tornare nelle proprie case e dai propri affetti e dimostrare empatia anche mediante gesti di aiuto concreto e di supporto. Ringrazio ancora tutte le associazioni e le persone che si sono adoperate affinché questa emergenza potesse essere gestita nel modo più opportuno e solidale possibile, ma anche tutti coloro che continuano a fare la spesa e a donarla ai punti solidali che abbiamo nel nostro Comune. Per poter anche portare questi generi alimentari di prima necessità proprio nei posti, nei luoghi dove la guerra sta facendo morti e tanto dolore. Poi, continuando quella presentata in occasione della Festa dell'Europa, non è stata l'unica illuminazione simbolica che il nostro Palazzo Comunale ha visto in questo periodo. Infatti, il 17 maggio si è celebrata la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia e il Comune Calcinaia per l'occasione ha esposto la bandiera della comunità LGBT fuori dal Palazzo Comunale che è stato appunto illuminato con i colori dell'arcobaleno. Già da qualche anno il nostro Comune aderisce alla rete CREDI, la rete italiana delle regioni, province, autonome e enti locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in chiave intersezionale, cioè in combinazione con altri fattori di discriminazione. abbiamo aderito alla campagna di contrasto ai discorsi d'odio, rivolta in modo particolare ai e alle giovani e al mondo della scuola e veicolata attraverso diversi canali, tra cui i manifesti riportanti il claim blocca l'odio, condividi il rispetto, ripreso anche dai manifesti scelti dalla Commissione Pari Opportunità dell'Unione Valdera. Anche la biblioteca comunale intitolata appunto a Pierpaolo Pasolini ha voluto dare il proprio contributo a sostegno della giornata mediante la proposta di letture rivolte a promuovere una riflessione in merito alla materia. Una serie di iniziative quindi per far sì che la società in cui viviamo possa essere meno indifferente e contrastare insieme alle istituzioni ogni discriminazione e comportamento anche aggressivo. Siamo prossimi alla chiusura dell'anno scolastico e mi preme dare alcune comunicazioni inerenti servizi per i più piccoli. Nelle menze scolastiche delle scuole dei comuni che fanno parte dell'Unione Valdera è utilizzato cibo biologico di qualità certificata, un impegno che fa del servizio di rifezione di questi territori un modello a livello nazionale e che ha portato a un riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha deciso di premiare l'Ente con un significativo contributo. Grazie alla certificazione biologica e a questo finanziamento ministeriale, nonostante che i prezzi delle rate alimentari abbiano subito evidenti aumenti dovuti a questo periodo storico particolarmente travagliato, il costo dei pasti degli alunni dei comuni della Valdera sarà più basso. Già da maggio saranno verificabili le riduzioni. Vogliamo continuare a promuovere un'alimentazione sana e basata su prodotti di qualità che ci identifica non solo per quanto riguarda il punto di vista nutrizionale ma anche come valore culturale. Per i più piccoli non mancheranno spazi in cui stare insieme anche durante il periodo estivo. Ricomincerà infatti il mattino in ludoteca presso la ludoteca Calcinaia e presso il centro Montessori a Fornacette, dove da lunedì 13 a venerdì 24 giugno la mattina i bimbi potranno svolgere i compiti per le vacanze e approfittare di laboratori e momenti ludici. Le iscrizioni riservate bambini residenti del Comune Calcinaia sono aperte da ieri, cioè da lunedì e chiuderanno lunedì 6 giugno. Inoltre ripartiranno i campi solari promossi dal Comune per i quali le iscrizioni opportunamente comunicate si sono chiuse la scorsa settimana. Infine, un ricordo personale a nome della comunità che rappresento. Durante la mattina di lunedì 9 maggio siamo venuti a conoscenza dell'improvvisa scomparsa di Andrea Grillai, che da molto tempo lavorava presso l'ufficio URP del Comune Calcinaia e che ha saputo farsi apprezzare sia dalla comunità fornacettese, dalla quale proveniva e nella quale era conosciutissimo, per la sua storia e le sue tante qualità, sia dalla comunità di Calcinaia che ha imparato a conoscere la sua umanità, il suo spirito, la sua sagacia, la sua ironia, la sua disponibilità. Una notizia che ha destrato sconcerto, sconforto e disorientamento tra tutti i colleghi e tra gli amministratori. Andrea era una persona solare, pragmatica, in grado, con la sua ironia dissacrante, di strappare un sorriso in ogni circostanza. Tutta l'amministrazione comunale lo ricorda per le battute intelligenti e pungenti, la calma, la positività, la cura per utenti e cittadini. Una presenza storica e soprattutto una persona per bene che al nostro comune, ai cittadini, ai colleghi e agli amministratori tutti mancherà tantissimo. Ciao Andrea e un enorme abbraccio da parte di tutti noi. Bene, dopo le comunicazioni passiamo al punto numero due dell'ordine del giorno che vede regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, modifica, approvazione. Allora, questo è un argomento che è stato spiegato, credo, ampiamente in Commissione, ripilogando qualcosa per coloro che sono in ascolto e per chi non fa parte della Commissione Affari Generali. Si può dire che il Comune, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, adotta regolamenti per le varie materie di propria competenza. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle relative commissioni e conferenze dei capigruppo è uno che fa parte di questi regolamenti. Al proprio interno sono previste le modalità di convocazione e svolgimento del Consiglio Comunale e dei consessi ad esso legati. A causa della pandemia da Covid-19 abbiamo avuto modo di sperimentare positivamente lo svolgimento di queste assemblee anche con la modalità in videoconferenza. Si ritiene opportuno introdurre pertanto la possibilità di realizzare le sedute degli organi collegiali con tale strumento, cioè la videoconferenza, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza. Così come già, per esempio, adottato e avvenuto all'Unione Valdea. A tale scopo, cioè per fare questo, si deve introdurre un'apposita modifica al regolamento inserendo la modalità videoconferenza che preveda il collegamento di tutti i membri da remoto. Viene introdotto così ex novo l'articolo 50 dal titolo Svolgimento del Consiglio Comunale e degli altri organi collegiali in modalità telematica che fa, diciamo, scalare di un numero, di una numerazione, il precedente articolo 50 che era entrata in vigore del regolamento comunale che passa oggi al numero 51. Per cui questo è un regolamento che naturalmente è in vigore dal 2012 ha subito alcune modifiche nel corso degli anni e questa è una modifica ulteriore però per adottare una modalità che lo rende più snello, più fruibile, anche in momenti particolari come possono essere stati, speriamo che non ci siano più, quelli della pandemia da Covid-19 oppure per qualunque altra tipologia di evento che richieda un collegamento da remoto da parte dei componenti degli organi collegiali. o considera Fagni Buonasera a tutti Allora sì, l'argomento è stato discusso in commissione, è una cosa molto tecnica e questo passaggio è stato richiesto anche proprio da Lanci che quindi insomma vuole che ogni comune insomma preveda la possibilità di poi fare insomma i collegamenti da remoto e i consigli in remoto. In commissione noi avevamo fatto due appunti, la prima insomma visto che ci vuole insomma comunque una dotazione informatica abbiamo chiesto se il comune insomma può dotarsi di almeno una unità qualora ce ne fosse la necessità, cosa insomma abbastanza improbabile ma comunque non si sa mai. La seconda invece è un passaggio un po' più politico e abbiamo chiesto, visto che si va a fare una modifica al regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, noi in secondo consiglio avevamo presentato un'interrogazione dove chiedevamo appunto di integrare il saluto istituzionale almeno per i capogruppi durante il primo consiglio la seduta di insediamento del consiglio comunale. Quindi insomma abbiamo fatto questa richiesta e poi ci è stato detto che insomma sarebbe stata valutata. E infine insomma ricordiamo comunque non siamo contrari a questa modifica, anzi siamo favorevoli perché comunque è una richiesta lecita insomma che va a regolamentare un passaggio, quindi ricordiamo insomma infine di caricare quello che viene modificato anche sul sito, sul portale del comune, così come poi è previsto dalla legge. Grazie Grazie Buonasera a tutti Diciamo la modifica è una modifica garantista nel senso che garantisce e dà la possibilità a tutti di poter partecipare alle sedute del consiglio comunale per poter esprimere e parlare anche da remoto in questo senso, quindi non so se sarà possibile farlo in maniera promiscua, farlo in parte da remoto, in parte da diciamo da in presenza, perché ovviamente quando qualcuno poi può essere diciamo avere problemi di salute e deve stare a casa, quindi ecco questo può essere un elemento importante diciamo di garanzia e garantismo di presenza lo stesso. condivido l'osservazione che ha fatto consegnare Raffanni relativa al fatto di mettere, di modificare lo stato diciamo regolamento, visto che si modificava potrebbe essere fatto anche questo, visto che c'era già stato un precedente, non è che il regolamento lo si modifica ogni giorno, si modifica ogni tanto ovviamente da questo punto di vista, sarebbe stato garbato che si potesse inserire anche quella dicitura che il consigliere Raffanni ricordava e che permetteva anche alla minoranza e anche a tutti i capogruppo, insomma non solo al sindaco, un saluto ai tutti i consiglieri e anche ai cittadini, visto che siamo collegati in streaming e quindi questo è l'elemento, quindi comunque noi voteremo a favore perché ripeto è un un qualcosa di positivo che quindi garantisce, ma ricordo e rifaccio appello affinché anche questa modifica che è stata sollecitata sia inserita in qualche maniera. Grazie Consigliere Menecucci Grazie Buonasera, su questo punto sull'approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la spiegazione che ci ha illustrato il sindaco, noi siamo completamente d'accordo perché porta dalla possibilità a tutti i consiglieri, naturalmente non come una questione diciamo così di uso normale, cioè quando ci sono determinate situazioni o condizioni il regolamento può permettere anche di poter usufruire diversamente la presenza anche o in remoto o in presenza e quindi questa possibilità dà un'opportunità in più, noi siamo completamente d'accordo o per quanto riguarda l'altra questione sollevata in commissione, diciamo è una questione che va al di fuori diciamo del punto numero due che è all'ordine del giorno, qui si parlava del regolamento dove si mette in approvazione del Consiglio Comunale una proposta della Giunta su quel punto specifico che è l'articolo 50, noi siamo completamente d'accordo e quindi il nostro voto naturalmente è favorevole senza alcun motivo diciamo di differenziazione. Allora due precisazioni riguardo alla modalità mista non è come all'Unione Valdera dobbiamo essere o tutti presenti o tutti da remoto per cui ci fossero delle problematiche vanno in qualche modo evidenziate e vedere se c'è la possibilità di una convocazione in modalità videoconferenza. Riguardo invece all'altra questione che ogni tanto a partire addirittura dalla seconda seduta del Consiglio Comunale, quella poi che era non con la segretaria di Maio ma con la segretaria che venne in sostituzione, sì quella seduta che poi dette luogo nel sposto del prefetto se non ricordo male. Io penso che l'elezione diretta del Sindaco dia al Sindaco la titolarità di parlare direttamente ai cittadini elettori, esclusivamente al Sindaco in quell'occasione. Pertanto la richiesta, le richieste reiterate riguardo a questo punto, per quanto mi concerne, non trovano accoglienza. Punto, votiamo. Chi è favorevole all'approvazione della modifica al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale? Chi è contrario? Chi si astiene? Un'animità. Sul regolamento occorre la doppia votazione? Facciamo la doppia votazione. Se nessuno vota contrariamente alla prima votazione, la diamo pre-approvata. Perfetto. Passiamo al punto numero 3, gestione integrata dei rifiuti, piano economico finanziario 2022-2025 e tariffe. Approvazione. Prego, Assessora Ferrucci. Buonasera a tutti e a tutte. Abbiamo discusso di questo punto all'ordine del giorno in Commissione economico-finanziaria. Cercherò di panare, di toccare i punti più importanti per pregarlo a tutti i consiglieri e poi a chi ci ascolta, ai cittadini. Intanto è il secondo anno, forse addirittura il terzo, che portiamo il piano economico-finanziario con il quale determiniamo le tariffe della Tari staccato rispetto al bilancio di previsione. Questa possibilità di stacco è stata data ovviamente dal legge nazionale. Ecco il motivo per cui tutti gli anni in bilancio di previsione appostiamo una certa somma sui capitoli relativi al ciclo di gestione dei rifiuti, che poi viene revisionato in seguito, a seguito dell'approvazione del piano economico-finanziario, che è totalmente staccata rispetto all'approvazione del bilancio di previsione. Dopo questo cappello introduttivo generale, mi occorre ricordarvi che già dal 2020 che il Comune di Calcinaia, come tutti gli altri comuni d'Italia, sono andati ad approvazione del piano economico-finanziario secondo il metodo tariffario Arera. Prima del 2020 i Comuni, diciamo in autonomia, assieme al gestore, andavano a elaborazione di piano economico-finanziario, dal 2020 in poi l'autorità nazionale per l'ambiente e l'energia ci ha imposto a tutti questo metodo tariffario. Metodo tariffario che prima ha coperto le annualità 2020-2021, dal 2022 in poi una nuova delibera Arera ha imposto un nuovo metodo tariffario che non è più su base annuale, ma è su base al minimo triennale, con poi un prospetto anche del quarto anno di riferimento. Quindi ricalca in parte la modalità del bilancio di previsione. Ora, detto questo, quest'anno siamo andati, diciamo, l'iter di elaborazione del piano economico-finanziario non è stato semplice, non è stato semplice come non lo sono, non lo è stato neanche gli anni scorsi, ma quest'anno se avete visto, se avete seguito un pochino il dibattito che c'è stato anche sui giornali, indubbiamente vi sarete accorti che quest'anno è stato ancora più complesso rispetto agli anni scorsi a causa degli aumenti dei costi che ovviamente si ripercuotono anche sui gestori del ciclo integrato dei rifiuti e che quindi comportano o comporterebbero un aumento dei piani economico-finanziari, ovviamente. Quindi fin da inizio anno ci siamo trovati i tre soggetti incaricati di elaborare il PEF, il Comune di Calcinaia come gestore di di una parte del ciclo integrato dei rifiuti, Geofor, la nostra SOL come altro gestore e Ato Costa, ci siamo trovati a dover maneggiare come tutti i comuni un piano economico-finanziario in aumento. La nostra situazione era di partenza già buona perché vedevamo un aumento comunque sostenibile in ogni caso, che si attestava a poco più del 2%, ma che avrebbe comunque comportato un lieve aumento delle tariffe. Abbiamo quindi deciso di agire per cercare di, in questo anno complesso, che è caratterizzato da un po' di sofferenza sicuramente dopo due anni di pandemia, ma è caratterizzato da un'inflazione fortissima, un aumento dei costi energetici e delle materie prime che poi si ripercuotono nella vita quotidiana di ognuno di noi e quindi di ogni cittadino. Abbiamo cercato di fare il possibile, noi che ne avevamo la possibilità, per non arrivare all'aumento tariffario. Per cui abbiamo deciso di agire su due voci e qui chiedo scusa perché ieri in commissione in realtà ho detto l'inesattezza, mi sono confusa con le varie possibilità. La componente delta che quasi tutti i comuni hanno utilizzato e che anche noi avremmo voluto utilizzare, in realtà noi poi non l'abbiamo utilizzata perché grazie alle altre voci che abbiamo ritoccato siamo scesi sotto la percentuale dell'1,6% e quindi non abbiamo avuto una componente delta che è quella che poi riporta una parte del piano economico finanziario sulle annualità successive. Noi ci siamo quindi focalizzati su due voci e in particolar modo quella che ha avuto maggior importanza è stata sicuramente quella dei costi Covid. Come ho ripetuto molteplici volte, il Comune di Calcinaia ha utilizzato una parte del fondo Covid, quindi trasferimenti statali, per coprire i maggiori costi Covid. La copertura dei maggiori costi Covid ha permesso al Comune di Calcinaia di non valorizzare questa voce nel PEF 2022. E quindi questa voce ci ha dato la possibilità di abbattere, di portare in riduzione il piano economico finanziario. Siamo poi intervenuti sul fondo credit di dubbia esigibilità, perché l'intento è quello anche di agire in riscossione, quindi anche in attività di riscossione con azioni che poi saranno illustrate in altri momenti. E quindi questo ci ha permesso di ridurre anche il fondo credit di dubbia esigibilità, portandoci ad uno scossamento rispetto al piano economico finanziario del 2021 che si attesta sui circa 20 mila Euro. Circa 20 mila Euro su un piano economico finanziario di 1.981.000 Euro, quindi capite bene che l'aumento è un aumento che di fatto non sposta le tariffe dell'Atari. Lo spostamento sarebbe stato insensibile, soprattutto in un regime di tariffa puntuale come quello del Comune di Calcinaia, che è soggetta per sua natura alla variabilità della componente, scusate il gioco di parole, variabile, di parte variabile, quindi agli svuotamenti delle utenze domestiche e non domestiche. Questo, visto anche il buon accertamento dell'anno 2021, ci ha permesso appunto di mantenere invariate le tariffe, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Quindi questo lieve scostamento rispetto al 2021 non produce effetti sul piano tariffario. Sia le tariffe di parte variabile che le tariffe di parte fissa rimangono ferme al 2021. Non le illustro semplicemente perché sono moltissime e saranno pubblicate nella sezione trasparenza rifiuti sul sito, quindi chiunque cittadino fosse interessato poi le può trovare in pubblicazione sul sito alla sezione trasparenza rifiuti, così come il prospetto del PEP. I servizi ovviamente rimangono invariati, quindi c'è un'invarianza delle tariffe che si accossa anche all'invarianza dei servizi, come si può vedere da chi ha letto la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario. Allo stesso modo anche il regolamento della Tari puntuale rimane invariato rispetto al 2021. Questo perché il nostro regolamento, sapete, è ricco di agevolazioni e riduzioni sia di carattere socio-economico che di carattere ambientale. Solo l'anno scorso avevamo introdotto agevolazioni per le utenze non domestiche che necessitavano di aiuti causa pandemia e avevamo inserito un'agevolazione invece di carattere ambientale per le utenze non domestiche che installavano, decidevano di installare i fontanelli. Allo stesso modo manteniamo tutte le agevolazioni e le riduzioni per le utenze domestiche, specie quell'aumento delle fasce per le agevolazioni di tipo sociale per le famiglie in difficoltà economica. Le avevamo adeguate, aumentate nel 2020 a seguito appunto del primo lockdown e così le manteniamo visto il periodo storico. Non le riportiamo a una fase pre-pandemica, quindi tutte le agevolazioni e le riduzioni introdotte in questi due anni di pandemia rimangono ferme sul nostro regolamento. Mi sembra di aver detto tutto, se poi ci sono delle domande o delle osservazioni specifiche cercherò di essere più puntuale. Grazie. Grazie Assessore Ferroci. Prego. Prego Consigliere Picchi. Allora, nella commissione di ieri è stato detto questo, a materiale ovviamente risulta gli atti che non ci sono aumenti relativi all'anno 2021, quindi questo è un dato importante ma non sufficiente perché negli ultimi anni, diciamo dal 2018 a oggi ci sono stati aumenti del 47% sulla variabile e addirittura il 2021, quindi 2020, 2022 su 2021 un 32% di aumento. Ora, quindi se quest'anno non ci sono aumenti ne prendiamo atto ma non è sufficiente perché nel programma che veniva illustrato anche di inizio legislatura ci veniva detto che da questo punto di vista la raccolta differenziata avrebbe ridotto i costi e questo non avviene, lo sapevamo che non avviene, c'è una questione di onestà intellettuale dirlo e non nasconderlo da questo punto di vista. Sapevamo che la raccolta differenziata non è gratis, ha un costo, un costo sociale e il costo sociale in un momento in cui, come siamo oggi, le famiglie che vedono i costi energetici aumentati esponenzialmente, le aziende che vedono altrettanti costi energetici e di trasporto aumentati esponenzialmente e quindi questo magari poteva essere un elemento in cui si poteva fare un'azione quest'anno di diversa e di magari maggiore calmerazione delle tariffe. Questo non è avvenuto, prendiamo atto che c'è un non aumento delle tariffe, però a nostro parere questo non è assolutamente sufficiente e quindi da questo punto di vista non mi rimane altro che esprimere un giudizio negativo. Consigliere Raffanni. Sì, allora brevemente perché diciamo che concordo con quanto ha appena detto il consigliere Picchi e insomma come accennava anche l'assessore Ferrucci, insomma con l'inflazione al 6%, costi che aumentano insomma per le famiglie e le imprese, insomma bisognerebbe cercare di fare qualcosa in più, insomma bene il fatto che non sia aumentata la tariffa ma comunque provare insomma a fare qualcosa in più e appunto come diceva il consigliere Picchi, la raccorta differenziata non è gratis, ha un costo, sempre risultati ottimali sopra l'80%, 85%, 90% però vediamo che la tariffa insomma non diminuisce. Quindi... Il voto per il voto... Il voto contrario in linea che poi con il nostro voto sul bilancio e anche per i motivi appena espressi. Grazie. Prego, Assessore Ferrucci. Allora, da dove partire? Forse dalla prima questione che è quella di principio. La raccolta differenziata ha un costo. Allora, tutta la raccolta dei rifiuti ha un costo, è un servizio, ha un costo. Questo è in dubbio. La raccolta differenziata avrà anche un costo, ma se vogliamo stare sui costi, il comune di Calcinaia è il comune con la tariffa più bassa del bacino Geofor. E' l'unico comune, forse in compagnia di un altro, che quest'anno non ha aumenti sulla tariffa. Ed è il comune con la tariffa puntuale più spinta in termini gestionali e di gestione della tariffa. A parte questo, che influisce sulle tasche dei cittadini e si vede, e ci influisce positivamente, perché comuni che non hanno la tariffa puntuale pagano molto di più di quanto non paghi il cittadino in media nel comune di Calcinaia. Prego, chiedete a Pisa, per esempio, quanto i cittadini pagano in media per la raccolta, per esempio, ma in tantissimi altri comuni qui nei dintorni. Chiedete in media quanto è il costo della tariffa. E vedrete che il Calcinaia, con la tariffa puntuale spinta, è quello con il costo medio più basso. E ce lo dice che cosa? Il nostro PEF. Perché nonostante l'inflazione al 6%, il nostro PEF partiva da un aumento iniziale di poco più del 2%, quando altri comuni registravano aumenti percentuali a volte che sfioravano il 20%. Allora, i costi ci sono, indubbiamente. Al di là del fatto che i costi sociali, i costi del personale, se per fare una politica ambientale corretta e di gestione dei rifiuti corretta, si dà maggior lavoro alle persone, non vedo quale sia lo scandalo di dar maggior lavoro alle persone. Siamo in un momento storico, o si viene almeno da un momento storico in cui c'era penuria di lavoro, non capisco quale sia lo scandalo di dare maggiori posti di lavoro in un settore come quello della gestione dei rifiuti, se questo porta oltretutto a una gestione virtuosa dei rifiuti. E se di costi si parla, allora bisogna considerare anche i costi ambientali. Si prende volentieri atto del fatto che le liste di minoranza non abbiano minimamente a cuore l'ambiente che ci circonda, perché una corretta gestione dei rifiuti impatta sul futuro, sul futuro delle persone, sul futuro dei figli, dei nipoti. Quindi si parla costantemente di agire e i giovani chiedono costantemente un'azione per salvaguardare il futuro di questo pianeta. Quindi si parla di costi economici, ma indubbiamente ci sono anche costi ambientali. E una corretta raccolta differenziata, comportamenti virtuosi massivi, agiscono anche sull'ambiente e producono effetti benefici. Quindi riducono i costi sociali, aumentano il lavoro a disposizione e riducono, come potete vedere, anche i costi economici per i cittadini, perché in tutti i comuni di tutto il bacino, e non solo del bacino Geofor, in questi anni ci sono stati degli aumenti tariffari, tutti gli anni. E il comune di Calcinaia è sempre stato il comune in cui gli aumenti erano sempre maggiormente ridotti rispetto agli altri comuni, fino ad arrivare a quest'anno, in cui non aumentano le tariffe. E qui, non si nasconde niente a nessuno, siate voi al massimo che nascondete i benefici per vostro interesse di una raccolta puntuale e di una tariffa puntuale spinta, perché gli aumenti quest'anno non ci sono. E gli aumenti generalizzati significa che è il sistema generalizzato che comporta degli aumenti in tutti i comuni. E sulla generalizzazione non è certo il comune di Calcinaia che va da solo, dovrebbe andare a braccetto con altri comuni, e ci ha provato il comune di Calcinaia a andare a braccetto con tanti altri comuni, ma tanti altri comuni per tanto altro tempo si sono rifiutati di seguire il modello che per primo Calcinaia aveva introdotto, salvo arrivare poi dopo a introdurlo. Il che significa che evidentemente così assurdo questo sistema non è, vuol dire che dei benefici li porterà. Evidentemente. O forse siamo tutti pazzi, però ci sta anche che siamo tutti pazzi, fino a prova contraria ci mancherebbe. Il dato effettivo è che quest'anno le tariffe non aumentano, con un sistema virtuoso di raccolta, con una raccolta differenziata elevata e quindi con dei costi ambientali molto più bassi rispetto a altri luoghi d'Italia dove la raccolta differenziata e la tariffa puntuale non c'è. Io volevo fare un po' di storia, nel senso, ma proprio breve. Beatrice ha parlato anche di, come dire, valori che sottendono alla raccolta differenziata dei rifiuti e alla raccolta differenziata spinta anche dalla tariffazione puntuale. Io volevo ricordare cos'era nel 2010 la raccolta dei rifiuti in questo comune che si faceva in maniera differenziata con le batterie dei cassonetti, però andava in discarica all'incirca il 70% del rifiuto conferito. Io oggi non sono più aggiornatissimo sui costi della discarica, ma penso di non sbagliare di tanto se dico che siamo intorno ai 250 euro a tonnellate. Mi ricordo anche che vigeva l'ecotassa, la cosiddetta ecotassa, per chi aveva una raccolta differenziata appunto scadente, che non arrivava a determinati risultati, e noi eravamo uno di questi comuni, avevamo un'ecotassa anche stata del 27%, pertanto a questi 250 euro a tonnellata ci andavano aggiunti gli euro della relativa percentuale di aumento dell'ecotassa. Forse non ce li ricordiamo questi dati perché forse, non lo so, noi ci abbiamo lavorato tanto come comuni calcinaia e anche se sono passati più di 10 anni ce li ricordiamo bene. E ci ricordiamo anche che la tariffa, se si parla soltanto di vile e denaro, come si dice, la tariffa del comuni calcinaia all'epoca, era non certamente la più bassa del bacino Geofor. Era una, nella media, se non ricordo male, che però tanti comuni limitrofi erano più avanzati, almeno dal punto di vista tariffario. Bene, noi siamo riusciti nel corso di questi anni, di questi 10 anni, a recuperare quel terreno e a mantenerlo con questa tipologia di raccolta. Per cui oggi, a differenza di 10-12 anni fa, abbiamo la tariffa più bassa dell'intero bacino Geofor, naturalmente a parità di servizi. Poi è chiaro che se un comune paradossalmente facesse soltanto lo spazzamento e la raccolta, è normale che spende meno, ma credo che oggi nessun comune si permetta di fare i servizi base, perché naturalmente i cittadini chiedono attenzione, così come diceva l'assessora Ferrucci, soprattutto le giovani generazioni, tant'è vero che anche qui da noi ci sono delle associazioni che si battono affinché ci sia dovuta attenzione al tema dei rifiuti, si battono, collaborano, si mettono in prima linea e operano sul territorio perché ci sia attenzione e i rifiuti vengano raccolti correttamente in primo luogo dalle istituzioni che devono dare le linee guida e devono dare l'insegnamento corretto ai cittadini e alle aziende. Consigliere Menicucci, prego. Le cose che ci diceva prima l'assessore e ora anche il sindaco sono notizie positive, è una notizia molto positiva, anzi direi eccellente, non avrei in precedenza forse neanche pensato che si potesse arrivare all'approvazione del piano economico finanziario in una situazione dove le tariffe del 2022 rispetto all'anno precedente quindi del 2021 non subiscono aumento e non era mica una cosa data per scontata e qui ci sono problemi che bisogna ricordarceli sono stati già anche rammentati ma io mi voglio riferire al fatto che il lancio nazionale quello della Toscana che hanno fatto appello proprio perché rispetto a una serie di costi che derivano da altre situazioni non assicurano il giusto equilibrio fra le risorse e i servizi questo comune garantisce questo il comune di Calcinaia come è stato ricordato garantisce questo ed è un fatto molto molto positivo considerando anche per fare dei riferimenti che sono già stati detti che rispetto ad altri comuni del bacino Geofor ma anche in maniera più larga di rete ambiente il riferimento appunto a questi altri comuni ci danno ancora di più l'idea di quanto questo comune abbia messo in equilibrio il servizio con le tariffe e se non c'è l'aumento rispetto al 2021 all'anno precedente e ne va preso atto fatto estremamente positivo che ci fa capire anche ci fa dire quanto la raccolta differenziata sia stata una scelta strategica di questa amministrazione che viene come ci ricordava il sindaco da lontano è finito il tempo delle informate di quelle dove si raccoglie tutte e si mette tutto nel mucchio non è più così ormai da tempo noi pensiamo al fatto che ci siano tariffe giuste per i cittadini che però pagano il servizio ma che tengano di conto del futuro del nostro ambiente e vorrei ringraziare proprio la stragrande maggioranza dei cittadini virtuosi che escluso poche persone che buttano qualche sacchetto qua e là che con il loro conferimento sbagliato e lì punto fanno torta a tutti gli altri poche persone la stragrande maggioranza dei cittadini come dimostrano i dati con la raccolta differenziata che si aggira intorno all'85% e per questo ci hanno premiato è la dimostrazione chiara e limpida che questo comune si sta comportando bene da questo punto di vista e vorrei approfittare per ringraziare il volontariato è nata un'associazione di recente che si chiama Demetra con giovanissimi io mi sono presentato con loro nelle poche volte che ho potuto dargli una mano con molta attenzione perché la differenzialità non mi permetteva assolutamente di essere in prima fila però mi ha dato come dire un'energia in più per capire che questo è un servizio del volontariato che compartecipa all'azione amministrativa di questo comune e quindi tutti i cittadini sono chiamati proprio a svolgere un loro ruolo e secondo me proprio questi esempi di questi ragazzi giovani che hanno appena vent'anni forse meno quella raccolta che hanno fatto a Fornacetta a Carcinaia a qualcuna ho avuto proprio come dire la voglia di voler partecipare perché raccogliere i rifiuti che sono stati buttati impropriamente dalle persone è un fatto molto importante e quindi questa notizia di stasera è una notizia eccellente lo voglio sottolineare perché ci permette davvero di proseguire su questa strada perché è una strada di una strategia che condividiamo come gruppo al 100% il nostro voto sarà favorevole grazie consigliere Menicucci bene a questo punto direi di votare punto numero 3 all'ordine del giorno gestione integrata rifiuti piano economico finanziario 2022-2025 tariffe approvazione chi è favorevole chi è contrario chi si astiene doppia votazione se non ci sono voti contrari la diamo per confermata bene allora con questa votazione si conclude il consiglio comunale del 31 di maggio pertanto ringrazio tutti per aver partecipato ringrazio chi è stato all'ascolto da casa e saluto alla prossima occasione a liscia a maniera maniera a a a a Grazie a tutti